Alla grandona! Buona domenica a tutti e buona Pasqua! E, come dissi in un mio precedente video, siamo ancora in quarantena, però dai, siamo ancora qua. Quindi, un abbraccio grande e forte a tutti. E, in occasione di questa giornata particolare, ho scritto dei versi che adesso vi leggerò. Eh? Ok? Vi leggerò? Ok. E Pasqua è arrivata. Con la quarantena ancora attiva, ci sentiamo leone in gabbia, come non mai prima. Con dirette live, chat e videochiamate, ci sentiamo meno soli e facciamo tante serenate. Ora tutti artisti, DJ, cantanti o menestrelli, presi da ansia, fanno video tutto il giorno per farsi belli. Siamo bombardati di notizie da tutti i quotidiani, che siano vere o false, lo scopriremo forse un domani. I direttori di testate giornalistiche, grandi o piccole, fanno il proprio lavoro, ma alcuni non li senti più. E sono guai loro! E come disse George McFly Ehi tu porco, levale le mani di dosso, vi auguro una buona Pasquonia e vado a bermi un bicchiere di rosso. Eh, mi sembra regolare. Alla grandona a tutti, belli e brutti. E comunque, come dice un noto cantico preso dal mio parrucchiere, Muore la gente per bene e piena di guai. I rompicogli... Eh, non muoiono mai! Eh, ma come mai? Ma come mai? E comunque, un abbraccione a tutti e adesso esco di casa. Che mi vado a lavorare? Mi hanno segregato qua. Ah, che bello! Nella Dependance, questa è casa mia. Casa mia, Dependance, mi hanno segregato lì. E comunque con questa bella giornata di sole, alla grandona a tutti, buona Pasquonia. 2020one!